villa belvedere ricevimenti originalità eleganza e cortesia prendono valore e si trasformano in realtà un'ampia sala trattenimenti dotata di ogni comfort per festeggiare le vostre nozze villa belvedere ricevimenti per un sì da non dimenticare spero spero qualcosa in più dell'anno scorso però restiamo sempre con i piedi per terra a pensare di raggiungere prima un obiettivo poi l'altro l'anno scorso abbiamo raggiunto la salvezza poi abbiamo puntato a qualcosa in alto non è successo non fa niente però abbiamo sempre onorato nome palermo abbiamo fatto un grande campionato come tutti sanno e quindi quest'anno cerchiamo di fare magari partire col piede giusto sapendo che abbiamo almeno un po di esperienza per i ragazzi che hanno avuto un anno in serie a poi vedere di puntare qualcosa in più in alto io spero spero di lavorare migliorarmi e avere ciò che vuole anche la squadra poi dei ragazzi nuovi mi hanno colpito quasi tutti perché stanno lavorando vogliono dimostrare che ce la possono fare in questa categoria quindi sono contento a me piace vedere gente che ha voglia di fare di voglia di dimostrare e voler arrivare in qualcosa di molto importante il nostro obiettivo è la salvezza poi pensiamo qualcosa molto più in alto della salvezza dopo aver raggiunto la salvezza poi sicuramente bisogna partire gradino per gradino se no poi si sbaglia tutto sì noi qualsiasi partita sia un amichevole sia qualsiasi competizione noi cerchiamo di dare sempre il massimo e lavorare con la massima professionalità poi so benissimo che abbiamo un grande legame con i nostri tifosi speriamo sempre che vengano allo stadio a vederci perché ci fa solo che piacere ci carica moltissimo poi speriamo che quest'anno magari vengono ancora di più e che ci danno quella carica che che ci serve per poter raggiungere qualcosa di veramente grande sì no beh a me è importante lavorare gioco un minuto gioco tutta la partita l'importante è dare tutto me stesso e fare sempre grande partite iscriviti al canale